... Mamma, io esco, sto da zio questa settimana. Ciao mamma, sto ancora un po' da zio, stiamo fondando una start-up. Scusa Jaco, avrei un mobile da spostare. Momento! Scusa Jaco, ma il teorema di Pitaglia... Momento! Hai visto quel film di Noa? Momento! Scusa Jaco, ma il teorema di Pitaglia... Mamma, papà, siete venuti a trovarmi? Sì, il nuovo lavoro va tutto bene, con il cocktail me la cavo. Ma cosa fa quel signore laggiù col passamontagna? Mamma, papà, attenzione! Cuioso! Oh, guarda, sangue! Fico! Ma quelli sono i tre palettieri! Sono venuti a salvarmi! Robin! Oggi non c'ho voglia di fare un cazzo! Mood! Ciao! Grazie.